Ok. Allora, scusa Giulio, mentre tu ritrovi la tua cosa, rifacciamo un attimo. Come dici? Io ho fatto, sto aspettando di poter condividere lo schermo. Condividi. Ok. Allora, prima di tutto ho cambiato un paio di cose qua perché non mi piaceva molto, cioè io volevo fargli fare che la durata durasse quanto, allora un attimo, prima mi sono fatto questo disegno. Sì. Attimo. Aspetta. Aspetta. E volevo che le durate potessero durare da l'inizio dell'action time, che poteva trovarsi appunto tra questo e questo, fino a... Aspetta un attimo, scusami, aspetta, scusatemi un attimo, ho un telefonato. Aspetta un attimo, scusami, aspetta, scusami, aspetta, scusami. Un attimo solo. Un attimo, registro di... ecco. Ecco, sembra lo stesso problema. Cioè? Non capisco perché mi dice che vuol dire in module. Allora. Allora, nel file alla riga 70... No, l'ultima cosa devi vedere. Cioè, sì, che è la prima. In realtà il traceback è fatto al contrario. La at... Cioè, l'at... Non è... dunque, scusami, non vedo bene, puoi un grandino un po'? Ecco, at uguale, ma è il self-at che non è definito. In realtà è definito qua. Sì, ok. No, aspetta, aspetta, adesso vediamo. Allora, name at is not defined, ma non è lì. È alla riga 35 il problema. Ah, perché mi sa che è self... È alla riga 35. È self-tf meno self-at. Non è self... È perché io non sapevo se... Allora, io quello che volevo riportare con questo era questo qui. Iscrivermi. No, no, aspetta un attimo. Allora, il problema qual è? è che il punto è che la variabile at alla riga 35 non esiste. Ok? Quindi se tu... Cioè, il calc-at, ok, il problema è non puoi chiamare il calc-at perché lui ogni volta che lo richiami lo ricalcola. Quindi, cioè, quale at tu vuoi riportare? Vuoi riportare... Quella che è stata già spiegata, questa qui. Cioè, questa. Ma questo, questo che ha te, è l'at del singolo evento? Eh. Perché tu l'at glielo passi quando crei il generatore. Allora, aspetta un attimo che sono... È un momento di impallamento. Allora, non il generatore... Io ho capito qual è il problema. Però, ok. Sì? Allora, quando faccio 4x in range, nel numero di note, e genero ogni att, no? Sì? Mi è chiaro, ok. Vorrei che... Vorrei che... Faccio il disegno. Se io l'att ce l'ho qua, la durata può andare al massimo da 0,127 a tf-att, questo att qua. Quindi il massimo arriva qua e si ferma. Ok, ok. Mi è chiaro. Allora, poi mi mandi quel disegno pure in un formato plausibile che non sia un formato... Allora, semplicemente glielo devi passare come argomento. No? A calcdur. Ecco, ma sopra pure. Aspetta un attimo. Quando fai at, ok, glielo passi anche lì dentro. At. Sì. E certo. L'hai calcolato prima, quindi adesso quello... Perché questo è quell'at lì, effettivamente. Chiaro? Sì. Vediamo un attimo, vediamo se è giusto quello che siamo... Ci sta anche, però, questo problema in module, non capisco perché... No, 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 quello è tipo... No, 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 quello è generato tutto dal primo problema. Cioè, il problema è quando lui si accorge di un errore, lui va all'indietro per vedere dov'è l'errore. L'errore sta nella parte in fondo del... Capisci? Ti va a Madrioso. Sì, è fatta a Madrioso. Ok, quindi questo è. In teoria adesso dovrebbe avermi ricaricati qua sopra. No, in teoria adesso te li ha sparati sullo schermo, a meno che... Dei fare la freccetta. Fai il meta, spazio, freccetta, spazio... No, non ci serve neanche Grometto, fai il meta, vero? Non lo so, perché lui lo chiama automaticamente, vero? Sì. No, 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 non è meno superiore. Aspetta, aspetta, aspetta. E poi aspetta un attimo. Scusami, non capisco... Il Theovon ci ha comunque scritto... Ci ha comunque scritto la funzione? Come mai? Perché quando l'ho provato da solo, ieri, praticamente continuo a scrivermi sempre questa funzione, ma non farmi nulla. Sì, mi fai vedere un attimo come è fatta la cosa, perché non mi torna. Rifammi vedere il programma. Allora, ripartiamo... Non vedo nulla se non... No, ho capito. Diciamo il print della sinusoide e poi fa tutto il programma, però siccome... Ma dov'è che lo scrive? Scusa, aspetta un attimo. Fa il generatore. Ok, questo fa il print. Ok, quindi questo spara tutto sul... Va bene, ok. Ok, proviamo a fare quello che stavamo facendo. Scusami, volevo solo vedere... Allora, questo lo devi ridiriggere, quindi devi fare superiore, basta, non meno superiore. Teo underscore von.score, no? Hello? Ok. Adesso bisogna compitarlo, no? Sì, mi pare che ci siamo, vero? Ok, però il problema è che c'era questa cosa che anche per Fra non funzionava, che non ci faceva scegliere il numero di note più di mille. Non so perché, non ce le faceva caricare. E perché... Non le ha fatte caricare? No, non ce n'ha più di mille, metticene una più di mille, vediamo. È perché in teoria erano... 3000, 3000, 1500, un attimo vedo il disegno. Che però ho dovuto modificare per vedere se funzionava e poi non funzionava. Carino. Però secondo me, ragazzi, cioè è vero che è bello metterci un sacco di note perché fa figo che lo faccia tutto in automatico e poi non fate niente. Però dovete ragionare... Vabbè, poi i ragionamenti musicali li facciamo dopo. Prova. Ok. Adesso come siamo messi? Eh, che devo fare una volta che sono arrivato a questo punto? No, eh, devi guardare il file Teo Vonsco. Ma te l'ho fatto. Scusa, guarda all'inizio, la riga 1, se c'è la funzione. Sì. La funzione c'è e mi pare che ci sia tutto. Ok, quindi... Quindi adesso lo possiamo compilare. 709 e meno 12. E no, adesso vediamo. Secondo me distorce tutto, ma adesso vediamo. Proviamo. Come si capisce quando distorce? C'è scritto, ci sanno che lo scrive. C'è tipo autofrange quanto deve superare. Autofrange non ci devono essere. Autofrange vuol dire che sono campioni troncati perché distordi. Allora, se vuoi scrivi meno dv maiuscolo o teovon.uav W maiuscolo. W maiuscolo. W maiuscolo. O. Ah, che felicità. Stiamo arrivando al momento in cui cominciamo a fare qualcosa che rassomiglia all'ovagamento della musica. Comunque ci sarà un tvo e poi devo scrivere a teovon.uav. Dopo l'ao ci va il file audio, poi ci va l'orc, dove sta l'orc, teovon.org, no underscore, e teovon.score. Cioè, tipo, quello che abbiamo appena sentito mi dice, ah no, non autofrange, ovvero lamp. Mando? Mai. Ovvero al senso in pausa dei... Non è manco partito perché c'è un errore nella partitura. è excep, expseg, sarebbe expseg. Ok, salva, riproviamo. Vabbè, stanno tutte fuori banda, vedi? Già si vedono, ci sono tutti gli out of range. Non vuole fare tutto il quante. Ok, allora... Metto tutto a meno 24. Prova a meno 24. Poi su questa cosa delle ampiezze faremo dei ragionamenti, naturalmente. Interrompi, ctrl C. Ok, rifai. Ah sì, devi rifar girare quello, sì. Alla fine erano solo 8, me li adoffi. Vabbè, 8 diciamo che sono... Qua ce ne stanno ancora una barca. Il problema è... Sì. Ok, qua non ce ne sono più adesso. Ma dove si vede? Eh, vedi che tutte le ampiezze stanno sotto 32.000. Ah, sì. Vedi, le ampiezze stanno... Sono l'ultimo numero, no? Sì. E poi, quando c'è un out of range, te lo dice, passa una riga in cui dice out of range. Ma le devi fare per forza tutte così? Sì. No, se vuoi si può anche evitare che ti dica niente, però non sai niente. No, non lo sai. Sì, questo ci mette un sacco di tempo, perché quanto dura un minuto? Ma ci mettete troppe note. Cioè, ho capito che è bello metterci un sacco di note, però... Le cose devono anche avere un senso musicale. Comunque, mentre parliamo, mentre aspettiamo... Dimmi. Niente, che volevo appunto iniziare, che ci stavano... Volevo fare che ci stavano questi eventi sonori e ognuno era collegato da una situazione a un'altra. E alcuni erano tipo... Non vuol dire, collegato da una situazione a un'altra. Per esempio, questo qui... Ah, non ci stanno pause. Sì, cioè ognuno si intercambia e poi... Sì, si intercambia. Ognuno si... Come si dice? Sì, sì, ho capito. Ok. Cioè, ci sono... Questi tre momenti. Sì. E poi, in realtà, avrei voluto tutto questo prenderlo e rifarlo più avanti, ma cambiando un po' di cose. Solo che col fatto che non è partito non ho neanche potuto programmare quante note e capire come suonasse. Ok. E poi, beh, l'unico cosa è che mi ero ispirato a questa cosa. Ho preso di po' la prima parte di questo. Questo è Mondrian. Questo è appunto Teo von D'Essburg. E vabbè, ho preso... Non è Mondrian. Sembra Mondrian questo, sì. Ok. Bello, però. Sì, e niente, ho provato ad adottarlo, appunto. Alcune cose sono simili, poi ho provato a vedere quello che vuoi... Avete mai visto le partiture di Earl Brown? Segnatevelo. Andatevelo a vedere. Ve lo scrivo qua. Earl Brown. Perché Earl Brown fa esattamente questo. Per esempio, ce n'è una che si chiama Four Systems. che è molto suonata. Si mangia. Bello. Ah, ecco. Vabbè, ok, ok. Poi dopo ve l'andate a vedere. Vabbè, comunque questo è fermato. Ci sono solo quattro campioni autofrange. Vabbè, ce si può stare. Ok. Però vedi che, per esempio, le ultime, che sono note singole, sono molto basse, perché ormai sono da soli. Evidentemente c'è una... non fa come pensi tu, veramente. Però proviamo a sentirlo? Lo sentiamo su Audacity? Comunque sono molto, molto contento che ci abbiate lavorato. e noi siamo felici che lei è contento. E noi siamo felici che lei è contento. Sì, eh? Guarda, guarda. Adesso prova a guardare lo spettro. Vediamo se è qualcosa che somiglia a quello che hai fatto. Per guardare... No, per guardare lo spettro... No, no, aspetta un attimo. Per guardare lo spettro, devi... Vai sul... Vai sulla tendina che sta proprio sul file. Vedi la tendina in alto? No, un po' più giù. Lì. Clicca lì. Fai spettro. Diciamo che... No, no, lo è. Se tu guardi bene, lo è. Il problema è che stai vedendo 8 kHz. Ok? Tu, scusa, fammi vedere il disegno. Perché tu fino a che frequenza arrivi in alto? Il disegno arriva fino a 1400. A 1400. Quindi di fatto noi vediamo schiacciato. Adesso, guarda, se tu vai col puntatore... Intanto, scusa, fai una cosa. Allarga tutto. Nel senso che tu puoi scendere. Ecco, scendi giù. Ok. Poi vai col puntatore sulla barra di sinistra. No. Ma sta roba che sta in alto, che roba è? Sono distorsioni queste. Ma non possono essere distorsioni. Vabbè, proviamo a sentirlo, dai. Hai condiviso l'audio? Dove stava per la condivisione? Che non lo ricordo. Sulla tendina sopra. Che non lo ricordo. 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 Come finale. Dunque, la parte intermedia, non so da che cosa viene fuori. Cioè, sono frequenze che non stanno in quello che hai scritto tu. Strano. Ah, ecco qui ho scagliato. No, però non è brutta. Sì, infatti, questa cosa è molto strana. È strana, hai messo il minimo, superiore al massimo. Infatti, mi sa che non lo dà uno. Come dici? Mi sa che lo dà uno. Quello è il minimo, no? Cioè, l'ha messo superiore al massimo, l'ha fatto nulla. Allora, vedete però una cosa interessante. Quante note ci hai messo lì? Lì ci hai messo mille note. Però, siccome sono sparse molto nello spettro, cominciate a sentire i singoli elementi. Quando le cose sono molto compresse, le... No? Allora, ok, mi fa piacere che abbiate avuto questo primo battesimo degli spazi incommensurabili della musica. Cioè, questa, chiaramente, capite che sono cose che funzionano in maniera completamente diversa da quello che siamo abituati a concepire, no? Io le volevo chiedere poi quella cosa del sorting, quella piccola idea. Sì, va bene. Adesso, il punto qual è? Vedete che, per esempio, voi qui avete fatto delle scelte, diciamo, piuttosto casuali. Non vi siete posti troppi problemi, no? Per esempio, questa cosa qua, non vi siete posti, che so, la relazione che c'è tra il minimo e il massimo, no? Oppure, quante note prendere? Avete detto, mille, no? E così, ma non c'è un motivo specifico per scegliere mille, oppure cento, oppure... Eppure cambia completamente la cosa, voi capite, no? Il risultato cambia completamente. E, incidentalmente, diciamo che già appunto nella scelta dei metadati... E per esempio, la cosa carina è che sbagliando sulla scelta dei metadati è venuta fuori una cosa interessante. No? Non so, cioè, capite che mondo vi si sta aprendo? O non vi è chiaro? Sì. Cioè, il punto è che noi siamo partiti così, dicendo, ok, pigliamo delle frequenze a caso, in un certo range, eccetera, eccetera, ma nulla ci costringe di fare così. Per esempio, noi potremmo segmentare lo spazio frequenziale in un certo modo, per esempio, beh, una segmentazione è sicuramente lo spazio temperato, quindi invece che prendere notte a caso, le prendiamo a caso, ma solo in uno spazio temperato, no? E poi il temperamento lo possiamo fare come ci pare. Prendiamo un'ottava, la dividiamo in 35, invece che in 12. Capite? Allora, il punto di questa cosa qua è che ciascuna di queste scelte è una scelta musicale che ha un suo senso e che produce ovviamente certi risultati. Adesso la cosa che bisogna cominciare a fare è a pensare a quello che si vuole ottenere e quello che si vuole ottenere fa parte del senso musicale. Adesso io non pretendo che viate senso musicale immediatamente, ma che vi poniate il problema. Capite quello che voglio dire? Cioè, se io qua devo scegliere delle cose, queste cose che senso hanno? Allora, per esempio, nel caso di Giulio, io ho detto, va bene, io rifaccio questo quadro qua. Ok? Come potete vedere, per esempio, sono cose che non hanno, cioè, se possono avere un senso grafico, non è assolutamente detto che abbiano un senso musicale. però, d'altra parte, è anche vero che dipende moltissimo dal tipo di connessione. Per esempio, una cosa che si potrebbe fare qua, che viene spontanea da pensare, cioè, ecco, vi propongo di non pensare cose molto complicate. Pensate senso semplice delle cose. Cioè, per esempio, una cosa semplice da pensare è, se io cambio il mio programma e ci metto, per esempio, anche forme d'onda diverse, e quindi nei metadati metto anche la forma d'onda. Per esempio, potrei rappresentare i colori. Dato che tu volevi recuperare questo quadro, Giulio, quel quadro ha anche dei colori. Questi colori sono rilevanti nel quadro, nel senso che tu puoi, se me lo metti, ti faccio vedere alcune cose. Cioè, questi colori danno un senso ritmico al quadro. Qual era quello che hai preso? Questo qui. Quello lì. Il giallo lì era. Questo è un'altra cosa. Lo puoi mettere grande? Proviamo a dare un'analisi, proviamo a fare una piccola analisi di questo. Di quello che pensi tu. Io volevo cercare di dargli questo colore, attraverso la quantità di note che c'erano. Ovviamente mettendo dal bianco verso il nero pochissime note rispetto a tantissime. Ok. Però, ora che ci penso... Sì, c'è la questione del bianco. No, ma la lettura com'è? La lettura è verticale. No, no. Eh, però io l'ho ringirato. Ah, è questo? Ok, ok. Mi va bene uguale. Allora, vedete che qua, per esempio, c'è una scansione ritmica abbastanza interessante. Quelle altre. No, cioè, se voi guardate, guardate per esempio le righe... Allora, intanto c'è, diciamo, una dicotomia tra righe orizzontali e righe verticali. Ok? Questa dicotomia in qualche modo andrebbe resa. Dicotomia sarebbe? Dicotomia è una separazione, cioè, un'opposizione tra due cose. No? Allora, poi, per esempio, se noi prendiamo le righe nere, quelle, solo quelle verticali, ok? Vedete che sostanzialmente ce ne stanno solo due. Sì. No? Di cui una... Adesso, perché lo stiamo vedendo orizzontale, allora, intanto, sì, diciamo, tu hai fatto un'equazione che l'asse orizzontale è l'asse dei tempi. No? Queste cose si svolgono nel tempo. Che è una possibilità, è una possibilità semplice e efficace in questo caso qui. No? Giulio? No, lo sto sentendo, lo sto sentendo. Adesso, per esempio, secondo me... Allora, in una situazione del genere quello che viene da dire è ma se uno rappresentasse le righe, facciamola semplice, verticali come accordi e le linee orizzontali come come note singole. Singola nota, ok. Ok? Oh, e poi cosa ci abbiamo anche? Ci abbiamo che queste righe determinano uno spazio che è rappresentato dalla contrapposizione tra grigio e bianco. No? Allora, che cos'è il grigio e che cos'è il bianco? Sono tutte cose da decidere, non è che sto dicendo... Poi anche la decisione di dire, ok, le righe verticali sono un accordo e le righe orizzontali sono una sono una una nota ma per esempio guardiamo in alto a sinistra la nota nera che sta là in alto è la nota superiore dell'accordo della riga verticale nera subito dopo? sì perché no? Se noi lo interpretiamo in questo modo qua Alla fine sono andato insieme alla rossa per quello diventa una cosa Certo però per esempio uno potrebbe dire allora come distingo questo accordo? L'accordo con la riga nera è fatto per esempio dico con un sistema con un sistema di segmentazione di quello spazio cioè non sono tutte le note qualsiasi ma sono solo un certo tipo di note magari prese anche a caso però stanno dentro un sistema quello del rosso stanno dentro un altro sistema ok? Poi naturalmente tutto cambia a seconda di come prendi gli assi questa questa cosa quanto dura un minuto 30 secondi no? come come va il tempo perché per esempio la riga verticale nera che c'è all'inizio se tu guardi e se tu fai un po' di misure ti renderai conto che qua c'è un sacco di sezione aurea da tutte le parti la riga nera che sta in centro secondo me sta abbastanza vicina alla sezione aurea inversa del pezzo ok? la riga nera orizzontale che sta subito sopra e che tra l'altro corrisponde a quell'altra riga nera che viene dopo e che quindi in qualche modo dovrebbe essere una sorta di richiamo per te si trova la sezione aurea verticale la sezione aurea è un po' meno di due terzi la riga rossa verticale è alla sezione aurea della sezione aurea di quella che abbiamo visto certo c'è una sorta di pattern ritmico vedo partire dalla linea no dalla linea nera orizzontale quella sotto con quella gialla poi quella blu e quella blu quella nera e quella nera che si forma sempre lo stesso angolo si e tra l'altro questo è un ritmo vedete che se lo se diciamo la cosa dura molto non ve ne accorgete ma se dura dieci secondi questo disegno ve ne accorgete come perché la ritmicità anche non funziona tutta uguale cioè la ritmicità della forma è un conto la ritmicità di un pattern ritmico è un'altra cosa bello sì no vada vada no no ti sto sentendo stai pensando che quelle linee orizzontali sembrano molto qualcosa che che sembra fatto sia cioè potrebbe sembrare capito tre voci che proseguono per esempio anche sì c'è una sorta di tunnel centrale no e poi magari le parti in in grigio che vengono che si contrappongono in bianco potrebbero essere delle delle cioè come si dice coperte da delle cose sonore che sono fatte tipo di una cosa corpuscolare come si dice cioè nel senso quasi polverosa molto lieve rispetto alle zone anche dimmi scusa no stai pensando messo così o pure il bianco proprio per farlo dire il bianco il rumore bianco sì ma vedi per esempio bianco rumore bianco non è molto interessante anche perché il rumore bianco qui lo devi filtrare in qualche modo cioè non è proprio bianco perché è vero che quello è bianco ma sta in uno spazio delimitato se abbiamo deciso che le frequenze è la nostra asse verticale no allora per esempio il bianco la butto lì cioè però vedete che sono scelte che hanno una a me a dirla tutta piace più l'idea di Giulio ci mettiamo della polvere lì no allora bisogna decidere come è fatta la polvere però il bianco potrebbe essere rappresentato per andare anche nella direzione di Francesco da polvere presa veramente a caso ok completamente random mentre le cose colorate sono prese con sistemi in cui magari dentro prendiamo le note a caso però stiamo all'interno di un sistema ok insomma di un pezzo bassa in modo da fare tipo da da sfondo certo certo polvere polvere adesso il problema è dire e il grigio invece il grigio boh cioè qualcosa può anche essere silenzio non è che può essere nulla non è che dobbiamo fare cacciara per forza però il bianco il bianco è qualcosa mi verrebbe da dire anche il grigio deve essere qualcosa però notate una cosa che il bianco è delimitato mentre invece il grigio è dovunque non ci sia né il bianco né le altre righe se vuole il contrario cioè il grigio se vogliamo è è lo sfondo intendo forse pure il grigio l'è limitato nel bianco eh sì ma lo percepite così cioè io percepisco che io percepisco che il bianco è ancora un elemento di scelta il grigio sta dietro a tutto forse anche perché il grigio circonda tutto il disegno salvo per quel piccolo rettangolo bianco che sta in alto non lo so però questo io lo dico ma no è anche alla fine beh quindi uno può rappresentare il nulla cioè il silenzio sì ma veramente il silenzio qui non c'è mai no? a meno che a meno che non facciamo il contrario il grigio è un elemento di di polvere e il bianco è silenzio io non immagino così però vedete com'è fatto e qua si cominciano a scoprire gli altarini del del quadro e il bianco da solo c'è solo all'inizio e alla fine e quindi in realtà fare questa mossa qua significa semplicemente che iniziamo il pezzo dopo e lo finiamo prima cioè se io scegliessi di fare che il bianco è silenzio e il grigio è la polvere ah beh no no abbiamo sempre la polvere alla fine e cominciamo sì forse no giusto forse la forse il grigio e la polvere ora è complicato fare questo perché vedete che il grigio cioè che la polvere deve essere dovunque non ci sia altro cioè non ci sia né il bianco né il come si fa a delimitare uno spazio in questo modo non è impossibile però è provate a delimitarlo appena un affare del genere forse si può tipo togliere da cioè boh immaginando tipo dentro un piano cartesiano mi verrebbe in mente tipo di togliere le aree che sono le aree dei dei rettangoli o comunque del del bianco dall'area totale attraverso dei parametri che sono magari tipo delle coordinate sì certo ma appunto è l'equivalente di dire traccia il profilo a penna del grigio non è banalissimo no ma si potrebbe fare in un altro modo quando come dici no dico limitando tutto il resto è quello basta che gli dici dove c'è qualcosa e zitti basta che gli dici come glielo dici allora il punto è che per fare una cosa del genere vi dico quello che farei io io farei che quando io scelgo una nota per qualsiasi altro motivo cioè che sia una melodia che sia la nota di un accordo eccetera eccetera la iscrivo in un certo registro no quando vado a fare il grigio vado a guardare il registro di quella vado a guardare il registro e vedo se nella zona in cui ho deciso di fare il materiale polveroso c'è qualcosa se non se se non c'è suono la nota altrimenti ne vado a cercare un'altra fino a quando non ne trovo una giulio se ne è andato armare no no ci sto mi sono spostato sul letto ah perché è più più ah siamo in modalità antico-romana esatto perché adesso siccome parliamo di arte allora siamo più più boemia ecco io lo farei così cioè farei il grigio ovunque non c'è altro che sostanzialmente è quello che succede e il bianco quindi cosa abbiamo detto che il bianco non è niente se vogliamo potremmo anche teorizzare questa cosa il bianco sì certo nel rumore bianco è la composizione di tutti i colori ma è anche l'assenza di colore cioè se la mia tela è bianca vabbè sentirebbe una cosa del nero che beh ok sarebbe un po' in contraddizione la cosa come stiamo utilizzando il nero beh ma tu sai benissimo che per esempio nei colori della stampante di una stampante nei colori di un video si usa l'RGB no nei colori di una stampante si usa il CMIC perché il black cioè è la combinazione di colori fondamentali quando sono colori che riflettono e c'è anche il nero che è l'assenza di riflessione però capite tutti questi ragionamenti noi li facciamo arbitrariamente non sono nessuno ci obbliga di pensare questo piuttosto che un'altra cosa è solo che forza un motivo per cui noi scegliamo queste cose cioè tutto questo qua noi lo stiamo scegliando solo perché a noi piace farlo così oppure perché deve per forza essere giustificato da un perché beh allora diciamo diciamo il problema allora ti spiego perché questo è un problema che tra l'altro sto vedendo che si stanno trascinando anche gente che adesso sta al biennio eccetera eccetera vorrei chiarire questa cosa allora qui c'è un aspetto didattico e un aspetto se vogliamo di artistico estetico il problema quando tu dici quando tu dici ma io scelgo così perché mi piace così quello che stai dicendo è non voglio analizzare che cos'è che mi piace ok vado a intuito e basta non faccio altro lavoro allora questo può anche andare bene ma non va bene dal punto di vista didattico perché io sono una cosa del genere che cosa posso dire non posso dire nulla non ne possiamo discutere no allora tra l'altro questo fa parte dell'esercizio che vi volevo che vi volevo che vi volevo per la prossima volta è importantissimo dal punto di vista proprio strettamente didattico farvi diventare consapevole delle scelte che fate perché è così che si impara se voi se voi il problema non è di dare una giustificazione ma di fare un'analisi capisci Giulio quando tu dici ma io questa cosa mi suona giusta così a me non mi dice niente io voglio capire perché fermo restando che io non posso dire giusto o sbagliato però posso fare delle scelte anzi devo sono costretto a fare delle scelte perché se voglio trasformare questa cosa in un quadro devo fare una serie di scelte no ma quello che dico è nonostante noi abbiamo detto ok se io posso pensare in questo modo posso ragionare così ma se uno chiede ma perché allora perché è deciso di fare in questo modo cioè nel senso che perché è voluto utilizzare questo modo di pensiero per eh beh lo spieghiamo solo che ci devi riflettere ci devi pensare no? allora proviamo proviamo a proviamo ad analizzare questa cosa cioè eh io vedo questo quadro allora tanto per cominciare perché abbiamo scelto un quadro ok e perché abbiamo scelto questo quadro beh perché questo quadro cioè secondo me questa scelta cioè ecco per esempio vuoi dirlo tu perché perché hai scelto questo quadro perché mi piace è il solo quadro è il solo quadro che ti piace a questo mondo no ovviamente no no boh era più il fatto che ok allora se è sì perché ti piace no no non è sì la cosa che stavo dicendo era il motivo per cui l'ho scelto era perché mi sembrava in grado di poter darmi uno spunto per una rappresentazione grafica che stavo cercando cioè un soggetto da cui partire come mai perché ti dà questo spunto perché quello che stavo cercando di realizzare era appunto dei generatori che definissero delle aree sonore che possiamo cioè definendo delle aree sonore solo in rettangoli era l'unico modo che potessi avere per allora e questa non è una spiegazione cioè allora il problema grosso il problema grosso delle della composizione è che è un un collezione di decisioni completamente arbitrarie però questo non vuol dire che ah vadano tutte bene cioè siano tutte musicalmente proficue e proliferino in maniera adeguata no? e poi eh eh la la arbitrarietà diciamo iniziale elabora stabilisce una serie di conseguenze per esempio la vera arbitrarietà di questa cosa è che io vi ho detto fate un pezzo di soli rettangoli perché perché vi ho detto questo perché è la cosa forse il più semplice che riusciamo a fare come vedete è già abbastanza complicata no? sì però diciamo che come esercizio è una cosa abbastanza semplice se io vi davo un quadro di Kandinsky o di Pollock e vi dicevo ok daje il programma sarebbe stato vagamente più complicato no? invece qui abbiamo quindi a partire dai rettangoli tu sei partito da quest'idea e sei arrivato a questo quadro che mi sembra assolutamente adeguata come decisione pur arbitraria è sempre arbitraria però mi sembra adeguata perché questo quadro è stimolante da questo punto di vista presenta una situazione che per esempio come diceva Francesco è ritmica presenta alcune problematiche da risolvere cioè uno deve prendere sostanzialmente delle decisioni su da farsi e dopodiché si mette là e vede se riesce a realizzarle a me questo non mi sembra un esercizio banalissimo da mettere in pari ma non banalissimo perché è complicato dal punto di vista tecnologico di programmazione non è banalissimo dal punto di vista del pensiero qui dentro questo quadro ci stanno una marea di cose da decidere no? e tutte queste decisioni sì sono decisioni arbitrarie però sono più o meno coerenti o sensate no? a seconda di come uno e cioè vi pregherei per il momento di attenerci a scelte sì arbitrarie ma semplici in cui si capisce subito qual è la logica ok? perché per le scelte più complicate c'è tempo nel frattempo fate esperienza di che cosa significa fare scelte semplici dal punto di vista musicale purtroppo le scelte semplici dal punto di vista musicale vanno poco lontano cioè dopo un po' le stufi in poche parole e nasce la necessità di fare altri tipi di scelte e magari anche di recuperare scelte del passato no? che ne so per esempio potreste decidere che questo è un sistema dodecafonico no? in cui ciascun colore ha una sua serie oppure ciascun colore è una particolare declinazione della serie è una trasposizione è una è una inversione è quello che è no? siccome queste sono legate anche nello spazio sulle trasposizioni bisogna cioè perché no? cioè potrebbe avere un suo senso è chiaro che per esempio il rendimento dal punto di vista spettrale perché avevamo detto che le linee orizzontali avevano senso che fossero singole note o comunque dei gruppi di note molto molto ristretti in realtà certo avrebbe senso pensare che per esempio le linee orizzontali sono dei cluster molto stretti mentre le linee verticali sono dei cluster molto larghi larghi si tratta sempre di rettangoli hanno sempre due dimensioni quindi non è che cambia tanto no? per esempio questa è una decisione che potrebbe essere sensata il problema di prendere le note a caso prendere le note a caso c'è un certo suono suono in un certo modo ok? prenderle prenderle secondo una una certa organizzazione suona ovviamente in un altro no? se volevo fare una prima organizzazione beh facciamola adesso questa è la cosa che potremmo fare per la prossima volta cioè facciamo un'estensione della nostra del nostro sistemino per definire il sistema di riferimento in cui scegliere le frequenze e come facciamo a scegliere? eh dobbiamo decidere allora scegliere un sistema di riferimento significa sostanzialmente segmentare lo spazio no? cioè non scelgo qualsiasi frequenza ma scelgo delle frequenze che fanno parte questo perché stiamo decidendo di farlo sulle frequenze lo possiamo fare sulle note sui tempi sui tempi no? un conto è se prendi un tempo a caso un conto è se prendi un tempo con una scansione ritmica noi non abbiamo ancora lavorato sulle scansioni ritmiche ma ci possiamo lavorare stiamo parlando di step ovviamente mettere certo di step che possono essere in tutte le direzioni anche dinamico anche di timbro ok? si intendo step si di segmentazione di spazi continui molto interessante mi fa piacere mi fa piacere quando avevamo cominciato dice che musica che musica senti mi fa piacere ok dimmi anche questo? anche questo la scelta è sempre arbitraria stella mia sono tutte scelte arbitrarie sì infatti non se ne esce da qua se vi danno fanno danno problemi le scelte arbitrarie sappiate che non ci sono scelte che hanno un il problema però è che le scelte saranno pure arbitrarie ma hanno un senso musicale o un altro a seconda di che scelta fate capisci quello che voglio dire Giulio? anche in base alla funzione che vogliamo dare a certo allora il problema è il problema è duplice qua da una parte fare esperienze di scelta no? se scelgo una certa cosa succede una certa cosa se ne scelgo un'altra succede un'altra e mi va benissimo che appunto ti sia sbagliato nel file di metadati oppure l'abbia fatto così apposta e che è venuta fuori una cosa sorprendente che guarda caso non suona per niente male suona tutto sommato forse quasi meglio degli altri nuvole no? eh allora questo questo che cosa ti dice ammazza guarda senti allora queste sono i cosiddetti incidenti fruttuosi no? che ti insegnano delle cose uno può allora il problema è che qualsiasi cosa tu faccia però la puoi analizzare capisci? mh cioè il problema è che non siamo abituati a farlo perché noi sentiamo la musica c'è troppo bello c'è veramente bellissimo ok ci piace il problema è che quello va bene per chi ascolta la musica in maniera abbastanza così da profano noi dobbiamo diventare dei professionals e i professional sanno quello che fanno anche se quello che fanno è completamente arbitrario ok è chiaro il concetto notare una cosa i professional del passato cioè adesso noi stiamo parlando qua di musica elettronica eccetera eccetera ma i professional del passato uno come Kurt Weill o uno come Henry Manzini o uno come John Williams nelle colonne sonore quando che ne so deve fare il tema di Star Wars no sa benissimo che ci deve mettere una sezione di fiati di ottoni e che deve fare tutto per quarte no perché quello e sa che quello suonerà giusto poi dopodiché da lì a arrivare al tema di Star Wars ce ne vuole cioè non è che è tutto lì no quello è solo l'inizio dopodiché ci deve lavorare parecchio per arrivare al risultato a cui arriva però se voi analizzate quello che lui fa dice ok lui deve fare una marcia trionfale sostanzialmente no come sono fatte le marce trionfale le marce trionfale cominciano con dominante tonica no e dopodiché da lì devono procedere in qualche modo quindi elaborano questa questione ok per cui mettiamo conto che tu da questo quadro volessi tirare fuori una marcia trionfale beh ti devi organizzare per sapere come sono fatte capisci siccome allora analizzatene un po' e vedrete cioè è molto non è che bisogna andare tanto lontano no ma adesso il punto è no di c'è una domanda si devi dire qualcosa fra? una domanda ma per esempio no allora non ho capito bene nel mondo musicale nell'arte musicale come possiamo vedere contenuto forma e stile perché magari che ne so la forma letteraria magari c'è il contenuto appunto il soggetto la forma puoi scegliere il modo in cui organizzare il testo e lo stile insomma definisci lo stile tipo qua per esempio se noi volessimo trovare una forma è la marcia trionfale la forma o è lo stile scusa qua che cosa stai dicendo cioè nel senso la cosa che stiamo dicendo appunto e questo possiamo dire che è il soggetto no il contenuto questo questo quadro sì e se noi volessimo utilizzare questo contenuto per fare diverse cioè in diversi modi cioè fare tipo una serie di composizioni tutte se lo stesso contenuto ma variando la forma e lo stile ok interessante non è bella idea Giulio ma com'è sto fatto ora stai cominciando a vedere delle belle idee ma com'è prima stai là che dici ah ma però non è vero vabbè comunque non ho capito se per esempio la marcia trionfale è una forma o è uno stile no cioè questo non ho capito nella tipo che ne so la fuga è una forma o è uno stile la fuga è una forma però voglio dire io non ragiono in questo modo io ragiono in termini di funzione ok la forma lo stile e il contenuto derivano dalla funzione nel senso tu che devi fare la risposta un pezzo è una risposta a una domanda a cosa serve cosa deve fare ok allora per esempio se tu prendi la marcia trionfale una marcia trionfale è una marcia tanto per cominciare serve per camminare ok serve per camminare tutti insieme serve per far camminare gli eserciti d'accordo quindi serve per camminare tutti insieme quindi significa che intanto deve dare il passo ok quindi ritmicamente capi adesso non è che voglio fare la disamina della marcia trionfale però quello che ti voglio dire è bisogna ragionare secondo me in questo modo cioè la musica techno dance a che serve serve a far muovere i deretani ok per esempio avrà un certo tempo metronomico stabile che è legato guarda caso alla lunghezza delle gambe se tu prendi una gamba ne costruisci un pendolo sulla gamba ti verrà il tempo della disco dance cioè capisci non è un caso non è un caso che le cose sono fatte in un certo modo però vedi che questo è un punto di vista analitico cioè tu dici ah la discutenza c'ha sto tempo perché a me piace sto tempo cioè ti piace perché è pensato in quel modo adesso io non ti dico che chi l'ha chi l'ha fatto è conscio di questa cosa ok però tu che analizzi puoi analizzare questa cosa qui capisci quello che voglio dire dopodiché per esempio in una in una situazione per esempio di discoteca cosa succede succede che un pezzo comincia e finisce però in realtà c'è una continuità cioè tu vuoi continuare a ballare fino a quando sei completamente embriaco capisci? no ma la forma quindi è concepita in questo modo qua sono forme estremamente prolisse che si ripetono in continuazione perché tanto non è che è veramente importante che succeda qualcosa no? altra cosa è se tu stai in una sala da concerto seduto e ascolti una sonata lì vuoi che succeda qualcosa se no te ne vai capisci quello che voglio dire? sì è vero no no dopodiché ci sono altre considerazioni da fare cioè per esempio quello che tu se vogliamo se vogliamo io ti dico la verità faccio una fatica faccio abbastanza fatica con le parole tipo stile o genere no? perché perché sono molto difficili da da identificare e si prestano a cattive interpretazioni però diciamo che per esempio c'è un una cosa consolidata che si chiama lo stile classico no? che non è la musica classica lo stile classico è lo stile musicale diciamo che va da Haydn fino a Beethoven e passa da Mozart c'è un libro di Charles Rosen che è molto importante che dovreste leggere ve lo metto sulla chat che si chiama The Classical Style lo stile classico cioè anche in italiano che analizza appunto su che cosa si basa lo stile classico e per esempio in quella in quel contesto lì diciamo c'è un aspetto narrativo dello stile classico che è estremamente importante Charles Rosen sottolinea che per esempio nelle opere che vanno da Haydn fino a Beethoven passando da Mozart c'è una delle forme usate dai 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 compositori che è la forma sonata che sottende a tutte le altre forme cioè praticamente tutte le cose che fanno fanno concerti fanno i rondò fanno i minueti fanno le suite di danza eccetera sempre forme sonate fanno le fantasie le fantasie tipicamente sono delle esposizioni variate di temi senza forma appunto è la fantasia in realtà lui mostra che in molte fantasie di Mozart eccetera c'è sotto c'è la forma sonata ok perché c'è la forma sonata perché la forma sonata è una forma fatta voi sapete com'è fatta ne abbiamo già parlato o no nella forma sonata c'è sostanzialmente la contrapposizione tra tra due temi è una forma appunto tipica della classicità da Haydn in poi in cui ci sono sostanzialmente due temi che all'inizio vengono presentati in forma contrapposta poi c'è tutto uno sviluppo in mezzo alla sonata e poi c'è una ricapitolazione in cui i due temi sono ripresentati ma in forma non contrapposta metteteci sopra Hegel e diventa tesi, antitesi e sintesi metteteci sopra Goethe e diventa il giovane Werther cioè è una è una distribuzione formale che sottolinea un aspetto caratteristico della classicità cioè i valori di tipo epico eroico no? cioè avete l'eroe che è il primo tema l'anti-eroe che è il secondo che può essere l'uomo e la donna può essere qualsiasi cosa cioè lo potete leggere come vi pare c'è una contrapposizione nello sviluppo questi due lottano si avvinghiano amoreggiano cioè c'è qualcosa succede qualcosa no? e e e alla fine sono una cosa sola questo è uno è uno uno schema estremamente narrativo ok il problema è che come tutti gli schemi narrativi che se vogliamo possiamo equiparare a un certo tipo di figurativismo nell'arte visiva no? però pensiamo a un pittore come Velasquez no? Velasquez che era Velasquez e che era in un'epoca in cui non se ne parlava proprio di fare modifiche a questo tipo Velasquez faceva fortuna con i suoi quadri di principi di re di cose a cavallo col che sono magnifici eccetera eccetera ma la vera grandezza di Velasquez sta in quello con cui lui non faceva fortuna lui faceva anche i quadri degli ubriaconi se voi prendete il capolavoro assoluto di Velasquez che è quello anche analizzato da Michel Foucault nelle parole e le cose che vale la pena di vederlo di leggerlo se voi prendete la sua linea allora aspetta segno tutto c'è un libro di Michel Foucault che dovete assolutamente leggere che si chiama le parole e le cose in questo libro lui analizza le discontinuità storiche quindi le discontinuità nell'economia le discontinuità e fa anche vedere come come c'è una c'è una forte discontinuità anche nelle arti visive e parte proprio da 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 questo quadro di Velasquez che vi metto qua che si chiama l'asma e ninjas allora in questo quadro ci sono una miriade di cose che non sono nella consuetudine pittorica narrativa dell'epoca intanto c'è perché il quadro dipinge una scena con le figlie dei re che il pittore sta nel frattempo dipingendo ma il re e la regina si vedono in uno specchio che riflette il re e la regina no quindi il pittore sta dipingendo la scena che il re e la regina vedono mentre lui li sta ritraendo capite che c'è una capovolgimento no se lo prendiamo ve li faccio vedere cioè se cerchi un attimo la smennigna di Velasquez no l'ha visto prendi un'immagine non so cosa ritagliati ah mi sa che c'è quello ecco quello lì no devi prendere il secondo no perché ce ne vuole uno che ci abbia un po' tutto però comunque sì va bene uno qualsiasi dai ma così fanno aprire le foto in modo che siano semplicemente grosse in una pagina non lo so se voi analizzate questo quadro qui ci stanno una serie di elementi no ma poi no aspetta perché questo è tagliato doppio sono individe io gioco altra parte vabbè certo devi ok ok allora vedete che qui c'è il pittore stesso sulla sinistra nello specchio in fondo tra l'altro il tema dello specchio è un tema estremamente sentito nella pittura vabbè lo specchio ovviamente rappresenta tutto eh ma stiamo pensando una letteratura certo certo il tema dello specchio è sicuramente fondamentale lì c'è dietro lo specchio secondo faccio un salto al bagno volante che sto morendo mi viene a sapere una cosa di questo quadro allora aspetta un attimo scusa faccio anch'io un bagno volante allora Francesco di che cos'è che perché Francesco stava dicendo non ho saputo che se il re e la regina siamo noi che guardiamo il quadro o no infatti è proprio questo il è questo è la la cosa essenziale c'è un capovolgimento narrativo questo appunto Foucault lo spiega molto molto bene però se possiamo anche ragionarci noi voi capite che per esempio un quadro del genere che dentro a tutta questa elaborazione di pensiero del pittore stesso voi pensate che per esempio gliel'abbiano commissionato i reali i reali gli hanno commissionato l'altro quadro quello che sta quello che sta nella tela che sta sulla sinistra no? e perché e perché secondo voi Velazquez decide di fare una roba del genere è una sorta di provocazione beh è una provocazione lui lui nel senso che anche se uno se uno povero guardando questo quadro diventerebbe lui potente avricolente diventando lui il re sì ma ok questa è una possibile interpretazione però guardate guardate bene che cosa c'è nel quadro cioè nel quadro c'è la figlia le figlie perché poi appunto sono le tre figlie no? ma cinque di cui appunto c'è un gioco di luci estremamente raffinato che focalizza l'attenzione verso la figlia centrale no? e ma diciamo lascia intravedere anche tutta la specie di corte di miracoli che c'è intorno a questa cosa no? che fanno parte diciamo della della intimità della vita intima dei reali che quando vengono dipinti vengono dipinti come si vede peraltro nello specchio cioè isolati in una sorta di empireo no? mentre invece qui tu lui fa vedere che no stanno tutti là c'è un sacco di casino no? come se decontestualizzasse sì non solo decontestualizza ma ribalta la rappresentazione grafica infatti Foucault sceglie Las Meninas in maniera estremamente perché è una è una rappresentazione assolutamente figurativa il punto è voi voi vi siete mai chiesti ma come ci siamo arrivati noi all'astratto alla pittura astratta perché hanno sbroccato i pittori che hanno fatto cioè come ci si arriva alla pittura astratta allora Foucault fa vedere che il pittore ma peraltro se prendete per esempio alcune cose di Raffaello in questo momento a Roma c'è la mostra di Raffaello che purtroppo è stata condizionata da sto virus ma Raffaello pure faceva questo tipo di ragionamenti ok allora tenete conto che però questi pittori qua erano pittori di corte di una corte aristocratica che aveva bisogno siccome non c'erano i selfie non c'erano le macchine fotografiche non c'erano queste avevano bisogno di gente che in qualche modo tramandasse l'immagine desiderata ok i pittori nascono sostanzialmente così no per dare una rappresentazione della realtà che è la rappresentazione voluta dal potere dal potere dal potere anche non solo dal potere diciamo politico ma dal potere economico cioè quando quando appunto all'epoca di Raffaello il Papa era un medici i medici mica erano particolarmente né religiosi né nemmeno aristocratici i medici erano dei banchieri erano quelli che hanno inventato le banche e dopodiché sono diventati papi sono diventati re sono diventati tutto perché perché la borghesia si è mangiata tutto no era una categoria molto più produttiva e forte dell'aristocrazia l'aristocrazia è come si dice non degenerata ma insomma decaduta mentre la la borghesia è cresciuta ora questo qui per esempio diciamo che se vogliamo Velázquez ha intravede questa cosa stiamo parlando del 600 quindi qua è molto molto presto Velázquez ha una visione di questa cosa e la rappresenta in questo quadro che probabilmente non gli è stato né commissionato né voluto né desiderato ma lui in questo quadro voleva rappresentare a capovolgimento narrativo no invece di farti vedere quello che sto dipingendo ti faccio vedere quello che vedono loro e cioè ti mettono a te al posto del del re no per per farti vedere quello che in realtà succedeva ok è un po' il Don Giovanni di Mozart cioè il discorso che nel Don Giovanni di Mozart beh lì per esempio lì è successo un casino con Don Giovanni di Mozart no ve l'ho già raccontato comunque Don Giovanni di Mozart è analizzato da un sacco di di filosofi di cioè il punto è che anche lì perché Mozart fa una scelta del genere perché proprio vuole farla non solo ma quando si scontra con l'imperatore gli dice oh ma che siamo impazziti cioè allora gli dice ok ci penso io ti faccio io il finalino che ti meriti no e lo fa e fa un un finale assolutamente insulso comparato con tutto quello che viene prima proprio per far notare quanto quanto era giusto il suo di finale e non quello voluto dall'imperatore invece di non lo so di dire no non lo faccio perché io sono un artista cioè Mozart non era un artista come sono gli artisti adesso che si possono permettere di operare delle scelte no anche etiche è riconosciuto all'epoca all'epoca gli artisti erano dei camerieri cioè che fai non non mi porti il dolce io te meno te licenzio sei finito no tenete conto che la nozione che abbiamo noi di arte e di artisti è estremamente diversa dall'epoca ok ma adesso per esempio ok siccome no questo discorso è interessante ma mi piacerebbe arrivare a un punto cioè vi è più chiaro come da qui si arriva per esempio per rimanere nell'arte visiva all'arte astratta perché questo ci serve anche a capire come arriviamo alla musica elettronica non è che diciamo che nell'arte c'è la prospettiva avendo lo stesso role che l'armonia per la musica no o forse sì forse in un certo senso sì nel senso che la prospettiva cioè non solo la prospettiva ma c'è il liber c'è stato un certo punto nell'ottocento c'è stato questo liberalismo che è stato stravolto nel novecento ma perché secondo voi da dove come ci si arriva allora guarda fai una cosa prendi Cezanne come si scriveva Cezanne 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 con due N Cezanne adesso qua facciamo un salto siamo nella fine del beh siamo sì lui in realtà è un proto impressionista no però fammi vedere fammi fammi vedere ecco per esempio prendi prendi il penultimo sulla destra in alto il primo il primo filo no ma non è veramente quello che cioè Cezanne con i suoi paesaggi tardi diventa astratto praticamente non c'è più il paesaggio ci sono macchie di colore ecco guarda questo questo ancora non è ancora non è proprio sì in realtà secondo me cioè Cezanne sta prima guarda prendi questo che sta nella ecco per esempio questo c'è un po' più grossa no non si riesce è anche un 4,30 per vabbè vabbè no ma tanto non è che serve no lo capite da dove viene capite che qua siamo al bordo dell'arte astratta perché perché siamo al bordo dell'arte astratta perché Cezanne non ha più bisogno di replicare quello che è ovvio e vuole invece farvi vedere come si può cioè come si quanto è espressivo per esempio l'astrazione della pennellata vedete che qui quello che si nota fortemente sono le pennellate no ma quanto questa 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 forma di astrazione sapendo che lui dipingeva a paesaggi perché poi appunto questa cosa qua è che noi lo vediamo che è un paesaggio lo si vede ma lo si vede appunto è un paesaggio estremamente filtrato dal punto di vista soggettivo ok arrivare da qua al all'astrattismo è un passo piuttosto breve no prendi per esempio prendi adesso prendi Mondrian Mondrian c'è un famoso dipinto che è un dipinto di un albero che è un Mondrian 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 Piet Mondrian è un ecco allora vedete che Mondrian inizialmente parte da una parte da delle rappresentazioni pittoriche no aspetta però Francesco ti supplico da parte il dito matto di Francesco che fa le cose no no ti credo che sbaglio ti supplico lascia lascia così lascia così ok vedete che lui negli alberi negli alberi diciamo iniziali lui cerca di fare diciamo della musica tonale cerca di fare la rappresentazione una rappresentazione figurativa dell'albero ok però man mano che si va avanti lui capisce che quello che lo attrae è l'aspetto diciamo se volete di 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 del intrigo di di linee di vario tipo curve ok da lì comincia a vedere che per esempio ci sono c'è una distribuzione degli spazi vuoti e pieni ok per esempio quel quadro che è l'ultimo della seconda fila del quarto metamorfosi arbore ok questo no questo non so non vedo la tua freccia no ecco questo ok che vedete che è un'astrazione ma non è quella finale quella finale poi non c'è non c'è veramente l'astrazione finale è quello lì che vedi a destra di quello nel riquadro nero no e che dà luogo alla alle alla alla fase completamente astratta di Mondrian questo è ancora un albero sì questo è ancora un albero è palisi no ma tra l'altro ce n'è ancora un altro in cui è molto più chiaro che sia ecco che è quello guarda è quello che sta in fondo sul nero sempre sul riquadro nero c'è immagini correlate c'è un'immagine blu ecco quello sotto non so se abbiamo perso no è questa ecco è questo questo quello quello guarda questo non so cosa stai puntando non vedo il tuo puntatore ecco sta a sinistra quello a sinistra va a sinistra qua quello quello è ancora un albero ma ma lui è di è di primo dopo Gandischi è contemporaneo ah ok sì appunto poi nel frattempo appunto c'è tutta una riflessione sulla sulla sul sulla sulla musica no no ma a parte sulla pittura sulla pittura ma all'interno della pittura c'è tutta una riflessione su su quali sono le le figure le primitive dei segni capisci Kandinsky è questo che elabora elabora una serie di cose che sono i gesti primordiali ok il punto la linea mi ricordo punto linea superficie tutto il sfruttato che ha fatto pure su gli artisti del triangolo temporale qual è l'artista del triangolo temporale? un artista è tipo quanto più normativo è meno capito da quelli della sua della sua epoca e quindi da solo si va bene ci sono ci sono un sacco di di teoria al riguardo però io vi dico la verità mi interessa più più che le chiacchiere da da bar mi interessano le quello che questi fanno non ci scopra stato malamente no era nella spiritura del nato ma lo so ma lo so so conosco ma sai sai quanta quanta roba c'è su questa roba qua il problema è che bisogna anche un po' eh così darsi una regolata su che cos'è che vale la pena di studiare che cos'è che vedete che che da qua arrivare per esempio a un monocromo di burri adesso prendi burri monocromo c'era quello che bruciava le tete giusto sì no burri con lì con la i normale sennò viene barry guy burri monocromo ecco prendi prendi quello sì si riesce a vedere bene questi bisogna vederli bene mannaggiammi no vabbè no vabbè prendiamo prendiamo quello ecco quello tra l'altro il fondo del mio telefono il trauma of painting quello che sta al Guggenheim beh sì questo questo però appunto non è veramente non è veramente il monocromo che pensavo ci stanno dei monocromi che sono non sono così cretati come come fa questo però per esempio questo è interessante anche musicalmente no come si fa a fare un cretto musicale era uno degli esercizi che vi volevo far fare vi volevo far fare il trencadis di Gaudì e magari anche un cretto di di burri se volete per esempio qui qui c'è un sacco di roba dentro c'è la teoria delle catastrofi cioè no voi potete vedere che queste sono rotture che si producono diciamo quasi organicamente naturali salvo che lui in qualche modo riesce a condizionarle per fare sì che per esempio vi rendete conto che sotto per esempio è più polverizzata la questione mentre invece sopra è più larga è più ampia c'è c'è ci sono tutta una serie di scelte non è che e che sono scelte che in qualche modo hanno una capacità espressiva danno per esempio fanno fanno brillare questa tela e vi dico la verità a me piacciono ancora di più i monocromi che sono proprio delle tele completamente apparentemente completamente nere non sono così non sono crettate sono sono proprio dipinte come? no niente sto parlando vabbè stiamo per finire comunque sono dipinte ma quando uno va a vederli le potete andare a vedere città di castello hanno trasformato una industria di tabacco di città di castello l'hanno trasformata nel museo di burri perché serviva uno spazio con dei soffitti molto alti perché ci sono dei quadri burri che sono colossali in cui il monocromo che cosa ti fa vedere? ti fa vedere appunto il passaggio del pennello cioè voi vedete quando quando non c'è più rappresentazione grafica quando c'è solo trama pura trama pittorica e voi quello è quello che cominciate a seguire cioè il bello del cervello è che è in grado praticamente di cogliere qualsiasi cosa purché messo nelle 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 condizioni di farlo ok quindi ecco sentite io qua potrei andare avanti per un pezzo però arriviamo a un cerchiamo di fare di fare un punto della situazione pensiamo pensiamo un attimo allora scusa questa era la risposta alla domanda di Giulio ma è sempre necessario giustificare le cose sì qui in classe sì cosa ne dici Giulio beh è chiaro del perché in realtà non molto perché tu dici se le scelte sono arbitrarie sono arbitrarie non vanno giustificate no no dico che magari io posso saperlo il mio il motivo però magari non c'è per forza bisogno di giustificarlo cioè boh non no però forse allora non mi sono spiegato la questione non è giustificarlo la questione è analizzarlo se tu lo sai il motivo vuol dire che l'hai analizzato il problema è che quando tu dici io posso saperlo però non lo voglio dire non mi piace perché non ho nessuna dimostrazione che tu lo sappia articolare un pensiero in parole io posso capire che è molto difficile anzi è sicuramente molto difficile parlare di musica con le parole ok però siccome farà parte della nostra chiamiamola tra virgolette professione io non la chiamo professione è più è più una situazione di vita è importante che voi lo sappiate fare anche perché poi diventa una cosa automatica quando scrivete pezzi ragionate sui pezzi non è che le cose vengono da sole se imparate a ragionare sui pezzi poi ci ragionate e non è poco cos'altro vi posso insegnare capisci cosa voglio dire Giulio se noi se noi partiamo dal principio che qualsiasi scelta è arbitraria e qualsiasi scelta in linea di principio è valida nel nostro nel nostro universo non siamo più nel nell'universo della musica tonale in cui allora la sensibile va alla tonica la doniante non è più così una cosa che penso è che magari nel corso dei decenni e dei secoli si era sviluppato magari per il discorso tonale che ne so per esempio per descrivere un'emozione un sentimento c'erano delle cose prefissate nel senso che a cui l'orecchio era stato abituato e c'era un linguaggio capibile nel senso riscontrabile nel senso magari una dissonanza preparata poteva dar vita a un sentimento gioioso mentre una non preparata poteva dar una situazione di rabbia oppure di una cosa negativa dove lo ritroviamo in questo mondo dove ormai ci sono talmente così tante informazioni come si può come può il fluidore dell'opera riuscire a comprendere tutte queste cose cioè se non c'è più un alfabeto ma lo decidite per ogni opera come lo fanno le opere di oggi secondo voi non c'è la storia accanto come? cioè non lo fanno e lo lasciano completamente all' all'ospettatore all'ascoltatore vuoi dire? sì allora io prima di tutto vorrei rispondere a Giulio dicendo ma secondo te perché è successo questo? è possibile capirlo? capire cosa? no che nell'epoca classica tanto per ritornare per ritornare a un termine conosciuto nell'epoca classica se tu volevi fare volevi esprimere una certa sentimento una certa sensazione che poi un certo pathos quello che vuoi sapevi cosa fare no? a parte che mi verrebbe da dire e quindi dove stava la bravura la bravura stava nell'applicazione pedissequa dei canoni oppure no? per esempio nel caso di Haydn la bravura sta nella applicazione pedissequa dei canoni perché quei canoni non erano ancora fermi in realtà Haydn fa un'opera di strutturazione dei canoni narrativi della musica cioè le regolette che sai tu adesso che funzionano per la musica tonale all'epoca di Haydn non erano del tutto ferme è Haydn che fa questo lavoro e va bene perché da dove vuole arrivare però nel senso quindi cosa si si ricerca nella musica elettronica allora io non non distingo la musica elettronica dalla musica contemporanea per me sono la musica contemporanea nel senso quello che intendo allora il punto no però aspetta un attimo perché rispondo alla tua alla tua domanda perché il punto è questo è che a un certo punto durante l'epoca romantica non sto dicendo adesso ci si rende conto che in realtà è la contravvenzione delle regole dei canoni contravvenire alle regole ai canoni ha una valenza espressiva perché ti rimuove dagli stereotipi no dallo stereotipo di una cadenza tonale come oppure diciamola così se tu fai una cadenza tonale hai finito la storia cioè nella narrazione è finito no allora che cosa fa il compositore estende questa cadenza però la cosa non va proprio così è un po' più complicata perché questo si coniuga bene con l'epoca romantica nell'epoca romantica nasce la psicologia no nasce nasce dopo il figurativismo nasce l'impressionismo nel nel tardo romanticismo e la musica comincia a vedere che le cose non sono proprio tutte bianche e nere come sembra no ci sono ci sono per esempio sentimenti e suggestioni ambigui e i compositori vogliono rappresentare questa cosa qua così facendo in realtà indeboliscono progressivamente il linguaggio no la cadenza tonale non è più ricercata non è più voluta perché la cadenza tonale è e vissero felici e contenti no dopo che l'hai detto per 300 anni di seguito magari basta anche perché non si vive più felici e contenti c'è l'era industriale è un macello cambia la società dalla società agricola capite quello che voglio dire non sono più i committenti non sono più i committenti aristocratici eccetera sono la borghesia la borghesia ha ben altri problemi no c'ha c'ha il problema della prima società industriale che è una società allucinante assurda no non c'è ancora il welfare ma vedete che come tutte queste cose per esempio il welfare smorza la potenza del capitalismo bieco no cioè Marx non se l'era manco immaginato il welfare nel senso non pensava che il capitalismo potesse arrivare a una cosa del genere per Marx c'era la rivoluzione basta dopodiché abbiamo visto che pure quello non è che funziona benissimo e quindi no ma vedi quante cose ci ritroviamo no poi nel frattempo c'è la teoria della relatività c'è Hilbert che fa le domande sulla matematica la matematica è un sistema chiuso completo coerente che funziona si scopre che no ma ti rendi conto no non è Heisenberg è Hilbert no ci sta anche no ci sta anche Heisenberg ma beh poi c'è l'indeterminazione c'è la fisica quantistica c'è di tutto cioè succede un macello e tutti i valori che c'erano che potevano diciamo pendere verso una cadenza tonale alla fine non ci stanno più gli artisti questo è quello che devono con cui devono fare i conti devono raccontare di questo e uno come Schoenberg all'inizio poi uno come Boulez poi uno come Stockhausen eccetera eccetera raccontano di questo allora come si fa per tornare alla domanda che facevi all'inizio dice ma oggi come si fa a a dire qualcosa in un linguaggio che abbiamo appena inventato e che no che fa parte di quel pezzo là e magari non è solo per quel pezzo là no allora per esempio tu devi devi essere cosciente del fatto che quando tu fai un pezzo l'ascoltatore non sa assolutamente nulla di che cosa aspettarsi e che quindi tu devi presentare musicalmente la logica con cui ti muovi no e questa logica può essere solo per quel pezzo là o anche per una serie di pezzi cioè questo appunto sono tutte decisioni poi arbitrarie secondarie capite quello che voglio dire però questo torna al discorso che facevamo prima cioè quando quando decidete di fare qualcosa certo questo qualcosa è completamente arbitrario no però questo qualcosa quindi lo potete anche fare a casaccio ma è a casaccio però sì lo potete fare una volta per divertirvi due volte tre volte poi dopo magari vi viene voglia di dire qualcosa anche no e per esempio la problematica che hai che hai detto te prima cioè noi viviamo in una società in cui c'è un'abbondanza di informazione pazzesca eccetera beh questo questa è una cosa che in qualche modo vi dovrebbe ispirare no cioè non è che vi dovrebbe dico può essere una delle cose da dire può essere una delle cose da cercare di rappresentare come si fa a rappresentare un segno una 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 qualcosa che sia un un vero segnale in una marea di rumore no no questa è una roba musicale perfettamente musicale come cosa un problema voglio dire un problema musicale da risolvere e io vi devo dire la verità piuttosto che perché questa storia di rappresentare le emozioni con la musica questa è una roba che cioè di nuovo fa parte di un certo tipo di di narrazione che è quella comune alle quali siamo abituati ma semplicemente siamo abituati perché viviamo in un mondo di canzonettari in cui non sono non è la musica che rappresenta le emozioni quanto le parole no siccome fa rima cuore amore eccetera eccetera allora vai tutti quanti che fanno rima cuore amore però capiamoci non è questo il vero il vero obiettivo il vero obiettivo è di riuscire a a provocare a suggestionare a suggerire un mondo emotivo attraverso i suoni se lo è ma parlando di cose pregnanti come per esempio questa che ho appena detto ma noi oggi siamo in un mondo di rumore ma perché per esempio siamo in un mondo di rumore da dove viene sta storia e come vogliamo barcamenarci vogliamo contribuire al rumore o vogliamo contribuire al segnale e come si fa a contribuire al segnale senza contribuire al rumore no c'è la famosa storia io me lo sono comprato pure c'è un pamphlet no di un filosofo americano che si chiama on bullshit no sulle cazzate il grosso grosso guaio il grosso dubbio che ti viene leggendolo è che sia una cazzata no e che quindi è estremamente delicata la faccenda non è facile e non è facile per esempio farlo dal punto di vista filosofico però potrebbe essere più facile farlo dal punto di vista musicale perché nella musica non sei costretto da una conseguenza logica delle cose puoi essere ambiguo puoi rappresentare l'ambiguità puoi rappresentare l'ambiguità nello stesso momento in cui rappresenti invece una chiarezza di intenzioni che è per esempio una cosa che in musica tonale nella musica romantica si fa spesso no l'altra cosa da capire è che noi abbiamo cioè come come non abbiamo per esempio più un linguaggio matematico solido che risponda a certe caratteristiche perché non ce l'abbiamo appunto per via di Hilbert non abbiamo più una fisica solida eccetera eccetera non abbiamo più un linguaggio musicale che ci permetta di fare certe cose no se vogliamo un linguaggio musicale per fare la marcia trionfale del Jedi di Star Wars ricorriamo a delle tecniche tonali e lì va benissimo non c'è nessun problema no il problema è che quello fa quello fa la marcia trionfale allora tu vuoi fare la marcia trionfale io nella stato di precarietà di voi giovani direi che anche no oppure non so se vogliamo prenderci per i fondelli può essere però no capite quello che voglio dire cioè in poche parole le è vero che si tratta di scelte arbitraie ma lo ripeto ancora una volta però sono scelte e quindi se uno riesce a capire quello che sta facendo dopo si ritrova con la possibilità di operare su queste scelte in maniera più o meno consapevole altrimenti se non lo capisce se fa tutto per intuito se fa tutto per istinto finisce che boh sì un giorno va bene un altro giorno no io io non sarei contento di fare tutto per istinto no allora vi propongo questo per la prossima volta io voglio che riprovo prego prego francesco scusami avevo quell'idea mi serviva l'ultimo passaggino praticamente era proprio ah del sort è vero sì ma che ci serve questo sort scusa no è che le volevo mettere in ordine dalla frequenza più bassa alla frequenza più alta ma tu sai che c'è una chiamata sort di python che lo fa eh sì però il problema è che mi genera una lista e beh una lista è come un array eh il problema è che poi quando lo vado devo andare a mandare dentro calcfrec ah no non ho messo ecco io ho fatto così a calcfrec detto frec uguale random punto ram detto appendilo dentro lista sì c sorta lista sì questo è sbagliato e il problema è che da questa lista devi ritornare c devi ritornare c che è la lista costata eh sì il problema è che è una lista a me mi servono numeri cioè devo uscire un numero alla volta scusa non capisco eh 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 cioè non capisco perché tu tu qua non vuoi perché fai una lista cioè perché scusa lui frec è una frequenza sì ma perché vuoi fare un glissando no eh sì eh ma lo vuoi fare allora è il random che c'entra la cosa è genera 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 random generando i random li mette dentro la lista questa lista è una lista di numeri random che poi vengono ordinati ma abbi pazienza qui c'è una sola c'è un solo numero dentro sta lista no vengono messi eh non vengono messi scusa ogni volta hai creato un allora frec ne genera uno per ogni però per ogni che per ogni strumento eh il problema è che tu stai dando una sequenza una nota però non è che stai facendo una serie è vero perché questa è una sola no ma poi la lista quella lista c'è solo in quella metodo poi sparisce non c'è più la lista quindi quella lista c'è un solo numero no allora ti dico io come devi fare devi metterlo la lista deve essere una proprietà della della classe eh deve stare là no solo che non capisco cioè il problema è che ok quando tu generi ti serve di sapere ok queste così sono sono random proviamo a fare un modo per ordinarle potresti fare che partono il problema è che non devi fare un random potresti fare che per x per x in range in passi di uno ogni nota va da frec min fino a frec max dalla frequenza che scegli la prima nota va a frec min poi la seconda l'obiettivo era che entravano random uscivano ordinati sì però scusami fammi capire il problema è questo l'action time è disordinato vero? l'ordinato sarebbe stato sugli action time e sulle frequenze ok allora il problema è che tu vuoi accoppiare action time a frequenza in ordine crescente allora il problema è che non puoi farlo a livello di singola nota no? lo devi fare prima tutti gli action time poi tutte le tutte le frequenze e infine crei le note con action time e frequenza ordinati capisci? sì non lo puoi fare cioè quel calcat genera una lista e ci sarà una lista degli action time ok? sì poi calcfrec genera una lista e ci sarà una lista delle frequenze poi il generate gira su tutte queste liste e accoppia action time e frequenza perché li devi fare su tutte e due quindi nel momento che c'è una lista lui cioè si prenderà il primo numero della prima lista il primo numero della seconda lista poi il secondo numero della seconda lista il secondo numero certo ti fai tutto il giro di tutte e due le liste e le accoppi insieme se no se c'è una ordinata e l'altra no comunque non ti viene niente ordinata in teoria sbagliato l'ho fatto sia sugli at sia sulle frequenze ma ho capito allora il punto è che questo allora devi avere la lista degli at e la lista delle frequenze che sono due proprietà proprio della classe non sono lì perché lì spariscono dopo la funzione devi essere self list frec self list at li generi tutti insieme no cioè il for che sta dentro il generate lo devi fare dentro calcat che te li genera tutti insieme e te li ordina e dentro calfrec che te li genera tutti insieme e te li ordina dopodiché tu fai un for dentro il generate dopo averli calcolati per per accoppiarli ti è chiaro no c'è il for deve stare dentro no sì il for deve stare dentro calcat perché così ne genera una sola che ce fai cioè tu tu devi fare scusa ti faccio l'inizio allora vai alla riga no non cominciare vai alla riga 21 ok sì aggiungi una nota aggiungi self self punto at list va benissimo aperta quadra chiusa quadra e poi self frec list queste devono avere la stessa dimensione che è sempre quella là frec list aperta quadra e chiusa quadra ok dentro 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 il generate fai fai ecco prima del for aggiungi una riga self punto calcat senza senza lascia perdere ecco senza ritorno calcat e poi self calc frec allora calcat adesso basta non faccio più di così perché tu dentro calcat devi fare un for come quello che sta alla riga 27 esatto identico in cui lui gira e si calcola tutti gli att no e poi li riordina e ti ritorna e cioè scusami ti ritorna infila dentro at list test il risultato del del sort ok stessa cosa per la frequenza dimmi secondo me se se te fra facessi tipo un altro generatore e ci mettessi cioè a differenza di quello che abbiamo fatto noi e sempre quando metti for x in range se tu ci mettessi tipo una variabile tipo che ne so ad esempio y uguale 0 e poi ci metti che praticamente la frequenza di quella nota cioè il calcolo della frequenza è frequenza minima più quella y e poi finito e questo anche per lat cioè sì ho capito però faresti che poi fai a fine for y più uguale a 1 e quindi ogni volta questo va avanti e ti crei tutte quante le sì ma c'è un c'è un random dentro non è detto che siano proprio ordinate il che potrebbe essere interessante non è che sto dicendo se potresti farlo con uno step no 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 ma così è semplicissimo così è semplicissimo e viene bene ok quindi c'è il sorted non ci ci sta qua o quando è nel for certo ma come avevi fatto peraltro nel calc frec è fatto ma lo devi fare sia per il calc e il punto è che quel sorted non deve essere uguale c uguale ma deve essere self punto at list uguale sorted di quella lista ok sentite però vi voglio chiedere una cosa in più perché mi rendo conto che è una cosa dopo il discorso di oggi è molto importante che facciamo questa cosa qua vi vorrei chiedere no no non è fatto così non è così non c'entra una mazza lascia perdere non è lì mettici anche Neil ci puoi mettere non c'è niente vi vorrei chiedere di fare un piccolo una piccola digressione scritta scrivete scrivete anche frasi concise sinteticissime non mi dovete fare la storia dell'orso che descrive quello che avete fatto ok ho preso questo quadro ho fatto questa cosa ho preso questo disegno il disegno ricopia il quadro le frequenze le ho scelte in questo modo ok prendetelo come esercizio però dovreste farmi un favore me le spedite il giorno prima la parte scritta la sola cosa scritta ok perché devo avere tempo di leggere se no non riesco a prepararmi va bene va bene va bene va bene va bene va bene descrivete come se fosse una specie di diarietto quello che avete fatto mi interessa soprattutto di sapere la logica con cui prendete le decisioni. Non è una giustificazione Giulio, è un'analisi e mi interessa che impariate a farla, perché tenete conto che quello che sto notando è che per esempio nessuno studente al bienio è molto bravo a fare una roba del genere. No, non è vero che nessuno, ma insomma è una cosa rara. Quindi bisogna che vi esercitate da subito. Va bene, direi che se non ci sono altre domande la possiamo chiudere qua. Comunque possiamo provare a fare delle forme d'onda diverse e basta cambiare qua da sotto. Basta cambiare la funzione, tra l'altro ne potete avere più di una, ovviamente. Nel meta ci devi mettere, diciamo che la cosa della forma d'onda anche quella è gestibile sempre nello stesso modo. Lo potete gestire a caso oppure associate i colori alla forma d'onda oppure eccetera eccetera. Io per il momento usavo solo sinusoidi e nient'altra sintesi semplicemente perché non avevate informatica musicale. Se cominciate a fare informatica musicale poi... Ti conviene aspettare. No, 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 ma per me... Per esempio questi sono tutti oscillatori a lettura tabulare, ci mettete delle tavole diverse, ci vedete. Ok? Va benissimo, non sono contrario. Va bene, va bene, proviamoci. Ok. Ok, buon pranzo. Arrivederci. Buona fine settimana. Anche a lei. A venerdì. A venerdì prossimo. Arrivederci.